allora sempre nella mia ricerca di un pc ok sono arrivato su questo sito che mi sembra molto interessante ancherman.com slash it slash la cosa bella che va subito sull'italiano nel senso che comunque dunque probabilmente è molto conosciuto perché ha italiano inglese francese spagnolo dunque qualmente molte persone dall'italia comprono perché è completamente un italiano e l'altra cosa è che mi piace molto come look ok molto velocemente nel senso a bellissimo cioè è più bella di blink per me dunque vuoi il tuo pc configurare individualmente o preferisci partire da un sistema completo e poi poi aggiungere quello che vuoi togli aggiungere e togliere dunque passo dal gaming ok ufficio workstation cioè per esempio per il CAD e multimedia dunque ipotizziamo che io voglia fare un CAD non voglio perdere tanto tempo vado qui clicco qua su workstation ok e vado qua quando sono qua su workstation vado CAD perché cosa voglio fare CAD ok vabbè dopo uno ce li sceglierà lui comunque clicco CAD ok e lui per esempio qua facciamo prezzo ascendente e discendente facciamo prezzo discendente o data rilascio c'è vediamo qua c'è parecchie cose nome del prodotto data di rilascio ascendente e discendente prezzo discendente dunque per esempio questo qua vediamo quello più più costoso che ha una dovrebbe avere eccolo qua una quadro p 2000 ok e un coi 9 9.900 e 9 generazione ok k dunque uno dei più potenti e dunque va benissimo questo qua va benissimo naturalmente il prezzo è importante è incluso di IVA e invece plus spese di perdizione quelle invece bisogna pagarle 2000 euro però la cosa interessante è che posso andare a configurare ok io non ho comprato nulla da qui dunque non non so però la cosa interessante a mio avviso vado a configurare e qua posso cambiare qualsiasi cosa e questo è molto un look molto quello che ha molto moderno ecco da qui si vede cosa ha cosa manca ho visto altri configuratori a mio avviso dovrebbero copiare questo perché questo è fatto veramente bene molto intuitivo con le sue icone per esempio io voglio andare a cambiare e non perdi tempo per studiartelo ok clicco qui perché non voglio una p 2000 ma voglio andare a vedere a prendermene un'altra per esempio qui vado a vedere ok voglio una quadro dunque vado a vedere se c'è una quadro e qui sono i costi in più o in meno a seconda che cambio la scheda ok dunque ipotizziamo che io voglia una delle più potenti e dunque un rtx 4000 mi costa 600 euro in più è una nidia ok qui cos'è che dice no non è per gaming non è ovvero collocata ok e questo sli vabbè qui non è se i support sono ignorante sulle sli support non lo so andrò a informarmi comunque è una delle più importanti sulla quadro sul solidworks se uno vuole fare visualize questa qui è una ipotizziamo che mi va bene ok dunque ho cambiato in un attimo ho cambiato la mia scheda e ok e chiudi a mio avviso e dunque io adesso ho la mia cosa naturalmente il prezzo è aumentato e o dunque a mio avviso volevo sottolineare questo perché fatto è fatto veramente bene la mia videocard è fatto chiaro nel senso che c'è tutto non sono notizie nascoste ti dice quello che in questo periodo ho visto che devi andare magari in altri siti devi andare a vedere qui invece hai tutta la lista bella chiara comprensibile e poi cambiare naturalmente anche qui non ha la lan e dunque uno deve deve e dunque non ha la la scuola come si dice card sound dunque non e dunque se uno la vuole mettere ma però chi qui è molto 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 chiaro ecco e dunque niente ci tenevo a far vedere perché va bene qui i prezzi sono altri anche perché poi sono andato a vedere ma non è che fanno molti sconti c'è qualcosa ho visto hanno molto sul gaming gaming e c'è se uno c'è qualche sconto ma non sono i tedeschi sono un po avari quello che mi sembra sono un po avari di sconti e prezzo discendente o ascendente ne andiamo sul prezzo ascendente qua siamo su gaming giusto e partono da un 431 euro però oggettivamente ho visto e già non è male nel senso che qui un i5 9.400 a 596 e bisogna vedere qui io non sono non sono non sono non vorrei dire una direva guardare bene 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 le cose ecco sì perché per esempio qua non ha la scheda video dunque bisognerà bisogna guardarli bene ecco di fatti come prestazione del sistema un po bassino mentre qui si vede che questo qua già occhio ecco è questo quello che a mio avviso è interessante che dovrebbero copiare anche gli altri è il fatto di questa subito ad occhio si vede la velocità ecco rispetto ad altri che o devi essere super esperto e così via invece qua mi sembra molto molto interessante fatto bene ecco fatto bene si vede che probabilmente vendono tantissimo mi sembra da da un'impressione di professionalità e serietà ci vediamo la prossima arrivederci qui 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 qui